... Incidente domenica 1 maggio, poco dopo le 11, sulla provinciale che collega il LIE con Bairo. Coinvolte una Volkswagen Polo e un trattore. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Rivarolo Canavese e i carabinieri della compagnia di Ivrea, ferito ma non in pericolo di vita l'occupante della Polo, un 74enne di Torre Canavese, che è stato trasportato all'ospedale di Vrenco di Cegiallo. Qualche contusione e tanto spavento per il conducente del trattore, un 34enne di LIE, che è stato medicato sul posto. La dinamica al vaglio dei carabinieri. 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 Grazie.